In una piccola città del Nuovo Messico, Taos, si cela un mistero che ha lasciato scienziati e residenti senza risposte. Un suono costante, a bassa frequenza, noto come il ronzio di Taos, è percepito solo da una parte della popolazione, mentre per altri è completamente impercettibile. Questo suono ha confuso e tormentato chi lo sente, descrivendolo come un sussurro incessante, a volte simile a un motore lontano. Nel corso degli anni sono stati condotti numerosi studi scientifici per cercare di individuare l'origine di questo strano fenomeno, ma non è mai stata trovata una spiegazione definitiva. Alcuni credono che possa trattarsi di un fenomeno naturale, forse legato a fenomeni sotterranei o a onde elettromagnetiche. Altri sospettano che dietro questo suono misterioso possa celarsi qualcosa di più oscuro, forse di origine soprannaturale. Il ronzio di Taos rimane ancora oggi uno dei misteri sonori più inspiegabili al mondo, sfidando sia la scienza che la logica. Segui il nostro viaggio per scoprire altri enigmi che mettono alla prova la nostra comprensione e ci spingono a indagare più a fondo.